Musica Ah che fantastiche ria Sono stato veramente bravo a creare questa pizzeria E ho fatto rima Però si sta facendo tardi E' il momento di rientrare E comunque salve ragazzi e benvenuti Quest'oggi ci dovremmo preparare per fare un viaggio Dato che abbiamo finalmente ottenuto I dodici occhi Abbiamo tutti gli occhi che ci servono per andare Nel luogo che mi è stato riferito da quel cavaliere tempo fa Quindi andiamo a fare una bella dormita Prima di tutto dovrei anche trovare dove si trova il cavaliere Per farmi dire qual è il luogo in cui devo andare Ma comunque qui ho preparato un po' di risorse Iniziamo con questi cinque cristalli Che me li assorbo tutti Con questi qui adesso sarò più potente Ho preparato anche dei bastoni e della pelle Dato che mettendoli insieme potrò ottenere questo qui Un paraglider Che dovrei poter usare subito Ok 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 ce l'ho fatta Così da evitare di farmi malissimo quando cado Poi ho anche preparato un cannone Quello della nave Che ancora non sono andato a recuperare Con le pane di cannone che andremo ad utilizzare Poi ho preparato un paio di lingotti del nether Iniziamo con queste qui tre stringhe Detto che io posso utilizzare questi lingotti per creare dei bastoni E utilizzare a loro volta questi bastoni Per creare l'arco del nether Quindi finalmente potrò sostituire il mio longbow È stato un grande compagno di avventure Quindi lo vado a riporre insieme agli altri tesori che abbiamo ottenuto finora E poi rimangono soltanto altri sette lingotti E una stella del nether Sempre da quei wither che abbiamo sconfitto Quindi andiamo a mettere qui i lingotti E la nostra stella Per ottenere l'ultimo pezzo dell'armatura La nether chestplate È vero che la mia armatura di stelle del wither è più forte Ma un'armatura del nether completa ci darà vantaggi grandiosi Un esempio è dato che saremmo completamente coperti D'elementi dal nether Per esempio i colpi del wither non ci potranno far del male L'unico problema dell'armatura composta da stelle del nether È che praticamente può essere penetrata Mentre quella del nether nonostante sia meno forte Non può essere penetrata Quindi finché non c'è nessuno che mi penetra Posso benissimo utilizzare la mia armatura di stelle del nether È semplicemente una precauzione questa nuova armatura E adesso finalmente andiamo al primo piano Per migliorarci un altro po' Quindi vado immediatamente a migliorare l'arcore Dandogli tutti gli incantesimi che serviranno Ed ecco che molti dei miei livelli di magia sono andati Per il resto suppongo che potenzierò l'armatura E metterei di fare i corpetti Dato che li continueremo a scambiare Quindi vado a potenziare i miei gambali Dandogli la protezione e l'indistruttibilità Più l'elmetto con protezione Affinità dall'acqua in modo da poter scavare meglio sotto E sempre indistruttibilità E dato che ho abbastanza i livelli Ha anche i piedini Alcuni incantesimi non saranno necessari Perché la mia armatura già copre quelle lacune Ma tutto il resto lo inseriamo E abbiamo un'armatura veramente potente Però ho quasi tutto potenziato Tranne una cosetta Difatti sono andato a prendere l'acciaio Dato che adesso voglio creare questo qui Un nuovo scudo Dato che quello che avevo prima era coperto d'altro acciaio Adesso lo coprirò di diamante Dovrebbe essere più resistente Duraturo Tra l'altro ha una forma diversa Così da non essere monotoni Ed è più figo E adesso è il momento cruciale Faccio guarda Semplicemente un veloce potenzialmente lo scudo Che lo rende molto più resistente E direi che posso iniziare a prendere gli occhi Per sicurezza vado a prendere anche quelli extra Dei Wither che ho ucciso E adesso Vediamo di prendere Tutti questi occhi Che abbiamo ottenuto Con grande lavoro Ed edizione nelle nostre avventure Una volta presi La vera avventura Inizia E' il momento Di andare Ma chi cazzo sei? No Non è possibile Che ci fai tu qui? Non ti avrei dovuto affrontare adesso Stai lontano da me Lascia stare casa mia Star Stai lontano da me Di nuovo qui! Non posso essermi sognato tutto! Oh, strega, sei tu! Per favore, dimmi che non ho sognato per tutto questo tempo! Ah, ti sei finalmente ripreso! Ero veramente in pensiero per te! Hai preso quell'esplosione in pieno! Hai dormito per una settimana, mentre cercavo di guarirti con tutto quel che potevo! Una settimana? Com'è possibile? Che ne è stato della casa? Che ne è stato degli occhi? Che ne è stato di tutto il resto? Per favore, calmati! So che sarai scosso, ma devi starmi a sentire! Va tutto bene! Ci sono buone e cattive notizie per te! Ascolterò! Dimmi tutto! Sono stata fortunata ad accorgermi in tempo di quella situazione! Proprio in quell'istante! Avevo visto quella forte magia che stava per essere scatenata sulla nostra casa! Sono riuscito a salvare me e in parte anche te! Anche se l'esplosione ti aveva già iniziato a colpire! Un secondo di più e saresti morto! Così tramite una magia di teletrasporto ti ho portato subito qui! Al sicuro! Ed ecco anche un'altra buona notizia! Nella cassa qui a fianco ci sono tutti i materiali che avevi addosso! Per fortuna, avendoli tu, siamo riusciti a salvare anche quelli! E per fortuna avevi anche preso gli occhi! Il tuo nemico è potente! Non ho mai visto una magia tale in vita mia! È riuscito a distruggere tutto con un battito di ciglia! Non so nemmeno dove potrebbe aver recuperato una magia tale! Ma è meglio se tu non torni nella zona della tua vecchia casa! O almeno nella zona dell'albero saggio! Ormai è rimasto soltanto lui! Le nostre speranze sono nelle tue mani! Ma non puoi affrontare quel nemico faccia a faccia! Dovrei riuscire ad indebolirlo piano piano! Quindi dovrei continuare a spostarti! Infatti Lambert, suppongo che questo qui sarà un arrivederci! Non ci vedremo per un po' dato che hai qualcuno del genere che ti sta alle calcagne! Io me la caverò! Ma tu devi diventare più forte! Indebolire il nemico e riuscire a sconfiggerlo! Siamo tutti con te! Va bene strega! Grazie! Allora ti ringrazio per esserti dedicata alla mia cura e per aver protetto tutti i miei oggetti! E allora riprendiamo tutto quello che mi serve! Perché adesso è il momento di andare! Mettiamoci sull'armatura, i miei oggetti personali! E non dimentichiamoci assolutamente di tutti gli occhi! Purtroppo non abbiamo più una casa ma abbiamo ancora speranza! E allora strega io sono pronto! È il momento di andare! Per fortuna è mattina! Quindi prendiamo la nostra bussola dell'esploratore! E credo che il cavaliere mi abbia messo le coordinate del castello da qualche parte! La bussola indica per di là! E allora iniziamo ad incamminarci! Quello strano tizio! Credo sia colui che ha causato l'apocalisse 300 anni fa! È venuto fin da me! Sto diventando una minaccia per lui! Suppongo che il suo castello non sarà per nulla vicino! Mi ricordo bene che il cavaliere è venuto dopo un bel po' che ho iniziato a lavorare per la mia sopravvivenza in questo mondo! Quindi mi toccherà camminare e non poco! Ho una voglia matta di andare a controllare se tutto sia a posto! Ma suppongo che metterei semplicemente a rischio anche chi si trova nelle mie vicinanze! Quindi devo resistere! Se adesso non sarò io quello a resistere sarà tutta finita! Ah! Finalmente sono arrivato! Finalmente potrò incontrare lo stregone! Ce n'è voluto di tempo per arrivare fino a questo castello! Ma poi è messo proprio in culo al mondo circondato dal ghiaccio, dalle acque! Ed ecco che iniziamo proprio male! Signor felinoidai mi sa che non vuole stare sul ghiaccio e sta per caderle sotto i piedi eh! Vabbè! Comunque è veramente molto nascosto! E sarebbe difficile da notare normalmente! Devi proprio sapere dove si trova! E questa qui non è nemmeno l'entrata! Eccola 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 lì l'entrata! Oh! Salve signore guardie! Non sono aggressive nei miei confronti! Questo qui è sicuramente un bene! Ehm... Ok! Evito di andare dove ci sono le guardie! Dato che credo che siano luoghi importanti che state difendendo! Non è vero? Oh! Quello lì è un trono! È lì che deve stare lo stregone! Però ci sono loro due che mi bloccano la strada! Sentite! Devo entrare! Devo... Devo parlare con lo stregone! Sono l'Humber! Mi... Mi ha riportato in vita lui! Dai fatemi entrare! Ehi tu! Eh? Ti stavamo aspettando già da un bel po'! Dobbiamo discutere! Ok! Salve buon uomo! Mi presento! Sono l'Humber! Avventuriero! So chi sei! Il tuo nome riecheggia in queste sale costantemente! Ma adesso lo stregone non ti può accogliere! Quindi puoi parlare con me! Ma non potrei parlare con la tua amica guardia! Quella lì era proprio simpatica! Cioè in realtà nemmeno tanto! Però era la prima che avevo conosciuta! E da un bel po' che non la vedevo! Speravo di vederla! Mi dispiace deluderti! Ma in questo momento la nostra guardia è in ricognizione! Sono sicuro che il prima possibile ritornerà! E te lo farò sapere personalmente! Fantastico! Allora iniziamo a parlare di cose importanti! Sono venuto qui per utilizzare gli occhi! Devo riuscire a trovare il luogo che mi serve! Se lo stregone non mi può parlare adesso! Sarai tu a dovermi dare indicazioni! Vedo che ti stai dando subito da fare! Ed è per questo che non ti voglio trattenere! Sappi solo che puoi utilizzare questo nostro castello come nostra base! Già sappiamo cosa è successo alla tua casa! Abbiamo più informazioni di quelle che ti aspetti! Ed è per questo che lavorando con noi potrai riceverne abbastanza! Riusci a sconfiggere il male che domina questo mondo! Fantasticoso! Allora dimmi! Cosa faccio con gli occhi? Puoi già usarli! Lanciane uno all'aria e ti indicherà la via per trovare un portale che ti condurrà a una grande battaglia! Una volta che l'avrai terminata potrai tornare qui! E da lì ti daremo tutti i compiti che ti serviranno per determinare il male di questo mondo! Va bene! Suppongo che sia almeno un inizio! È un peccato non ricevere lo stregone ma suppongo che sia occupato! N'è vero? Sì sì! Verissimo! E allora per fortuna oltre gli occhi che ho con me ho portato anche questi 16 occhi di Witherne e ho uccisi millemila! Mille mila! Bel lavoro! Potrei usare quelli per trovare il luogo che ti serve! Sì è quello che stavo dicendo! Quindi oltre al fatto che la guardia adesso c'ha addirittura un gatto domestico! Ma quindi vuoi dire che basta lanciarli in aria e... Ok non ne volevo lanciare quattro e mi indicherà la via da seguire! Ok per favore riprendiamoli tutti! Tutti gli occhi ripresi e mi pare che stavano indicando verso quella zona! Ciao amico mio! Quindi incamminiamoci! Siamo stati così tanti a collezionare e finalmente possiamo trovargli un utilizzo che mi condurrà verso una vittoria! O almeno è quello che si spera! Contro i miei nemici! Sta gallina è poco fresh! Comunque sembra che gli occhi entrino in questa foresta! Occhiello! Non so dove sia finito! Occhiello! E' spuntato dal sottosuolo! Allora deve essere qui sotto! Usiamo il mio mega martello per spaccare più blocchi insieme in modo da avere una strada bella libera! Posso mettere via gli occhi! Credo di aver trovato il luogo giusto! Esco le torce! E continuiamo a scendere! Sono qui tutti intorno a me! Sono zombie! Sono vicino! Un po' più in basso! Andiamo! Avrei non aver voluto vedere! Calmi! Calmi! Che sta succedendo? Perché c'è tutta sta gente? Ci deve essere qualcosa qui! Eccolo! Eccoli! Eccoli! Aspettate anzi un attimino e prendo questo cuore che c'è per terra! Ne stanno dando talmente tanti che credo di poterli utilizzare! Basta! Basta! Mi butto in mezzo! Ma non credo nemmeno che questa qui sia la zona che io stessi cercando perché ce n'era una simile a casa! Vicino casa! Quindi credo di aver sbagliato qualcosina! Va bene! Mi sono preso 10 cuori! Scendo un altro po' perché suppongo di... Che mi sembrava di essere finito nella zona sbagliata! E mi sa che adesso siamo nella zona giusta! Va bene! Devo cercare il luogo dove inserire gli occhi! Quindi cerchiamo attentamente! Poi controlliamo se anche ci sono materiali utili! Oddio! Qui veneravano il Wither! Non mi piace come cosa! Ma in fondo fa nulla! Se erano servi del Wither significa che consideravano il Wither superiore! E noi li abbiamo schiavizzati! E' bella grande come struttura! E' quasi come se fosse un labirinto! E' difficile orientarsi qui dentro! E molte volte finisce con dei vicoli ciechi o delle statue molto inquietanti! Ma va bene! Ah! Potevo ancora scendere di più! Legge dei dungeon! Più scendi! Più pericolo ci sarà! Ma lì troverai la zona che ti servirà! Vedete sono un poeta! Oh! Una stanzona! Ma comunque qui non c'è ciò che mi serve! Non vedo nessun luogo dove inserire gli occhi! In realtà mi sa di molto dubbioso il fatto che non ci sia nessuno qui! Ritiro ciò che ho appena detto! Più! Pop! Scarabam! Pau! Ha delle tombe! Mi dispiace dissacrarle ma sono molto interessato su cosa ci potrebbe essere all'interno! Che cosa mi poteva aspettare? Ossa! Un diamante! Grande! Qualcuno ci ha portato nella tomba le ricchezze! E qui c'è una porta di ferro! Che porta al nulla! Oh! E invece! Nascondeva qualcosa! Ma vedete là ci sono delle pressure plate! Vediamo! Mmm! Quella pietra che ho lanciato è completamente sparita! Sapete che cosa farò? Utilizzerò il mio paraglider! Esatto! Per scendere in tranquillità e non attivare le trappole! Eccoci lentamente! Lentamente! Vediamo cosa c'era al di sotto! Ma mi sa esplosivi oppure no! Uh! Pozioni di danno! Chiunque ha progetto questa trappola non è stato qualcuno che non si è dato da fare! Queste pozioni di danno però potrebbero tornarci utile! Quindi io me le prendo! Ma cosa c'era nella cassa? Diamanti e me la doro! Oh mio Dio! Sei bellissimo! Peccato che si è esploso! Va bene! Forse ho trovato una fine a questo labirinto infinito! Delle scale che portano in basso! E come ho detto prima! Legge dei dungeon! Portano di solito! Alla zona che ti serve! Almeno è quello che spe... Ma sei serio? Allora se rivedo questa stanza un'altra volta mi arrabbio! Oh mio Dio il mio amicone! Da quant'è che non ti vedevo! Sappi che la mia casa non c'è più! Lui comincia a donare con fatture e basta! Vive di commercio e si vede! Comunque l'ho detto! Se vedo ancora un'altra volta questa stanza sbrocco! Ma vedo subito le scale! Quindi magari potrebbe essere la volta buona! In cui non devo sclerare! Oh! Credo che questa cosiddetta proprio la stanza! Che io stavo cercando! Non vedo altro motivo per mettere qualcosa su della lava! Difatti! Ecco dove posso incastonare i miei dodici occhi! E allora! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Undici! E dodici! Il luogo è stato aperto! Sembra portare a uno spazio infinito! Scudo in mano! Cannone! Glider! Carote d'oro! Preparo nel mio inventario qualche pozione di rigenerazione! Le pozioni di danno perché no me le tengo potrebbero tornarmi utili! Eh? Via! Ed eccomi già! Ho visto qualcosa che non volevo vedere! Ok ok mi sono dimenticato i blocchi da costruzione ovvero pietra ma ho del legno con me! Forza 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 perché sono sul nulla! Quindi quello che dovevo affrontare era un drago! Ha delle torri con sopra dei cristalli e alcune sono protette da gabbie! Più è pieno di mostri che vanno in giro! Quindi dimmi posso colpire quei cristalli? Dovrei beccare il buchetto preciso e ce l'ho fatta ma sono stato colpito da un fulmine e ha fatto arrivare dei mostri che anche loro sono stati colpiti dai fulmini! Quindi nulla di che! Però sbrighiamoci! Miriamo subito a queste torri che sembrano curarlo! Mi sta lanciando di tutto! L'ho pure colpito per sbaglio! Ma per ora è le torri quello che mi interessa no? Ok il fuoco non mi fa male probabilmente grazie alla mia armatura e mi lancia a palle di fuoco pare! Ok si è tancato... Aia! Si è tancato un colpo pur di non farmi distruggere il cristallo ma sta fallendo miseramente li sto distruggendo tutti! Adesso voglio sapere una cosa! Le mie cannonate possono spaccare i blocchi? Li distruggono ma non sembrano troppo efficaci! Però magari un'altra cannonata può andar bene! Ho già beccato quel cristallo infatti! Adesso ne manca ancora uno per di là! Mirando... Miracolosamente bene! Lo sono riuscito a colpire! Adesso credo che siano finiti! Miriamo al drago! Non ti nascondere dietro le colonne! Ho preparato tutto questo per te! Ma c'era ancora una cristallo! Ok colpito! 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 Adesso che a terra però forse lo posso anche colpire con la mia spadona! Colpito! Colpito un paio di volte! E mi sta lanciando via però! Continuiamo a colpirlo! Non ci fermiamo! Mentre a terra usa le sue ali per fermare le mie ondate di frecce! Ma lo posso colpire con la spada! Dai 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 dai! Pariamoci pariamoci! Sta sputando delle fiammate viola! Maledizione! Sembra che non stia ritornando a volare! Quindi colpiamolo! Ecco è andato è andato è andato! Adesso che non sbatte così vigorosamente le ali! Posso colpirlo! Con le mie frecce! Non provare! Lo riesco a spingere praticamente un pochettino via! Grazie all'incantesimi che ho sull'arco! Dai 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 dai! Oh! Quel tizio è arrabbiatissimo col drago! Chissà cosa gli ha fatto! Però grande! Sarai ricompensato! No no no! Lui vuole me! Loro vogliono me in realtà! Drago non hai più torri! Arrenditi! Sembra che stia tornando giù! Cosa? Cosa? Di Blaze qui? Ok colpito! E sembra che stia rifacendo tornare le sue torri! Ma distrutta di nuovo! Bene! Adesso! È tornato di nuovo giù! Colpiscilo! Colpiscilo! Faccio! Gli faccio pochissimo danno! Anche se la mia spada è così forte! Dai pian piano lo stiamo sconfiggendo! Almeno è quello che spero! Ed è tornato a volare! Ho ancora tante frecce spero! Sì 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 sì! Ne ho a dozzine! Oh no 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 no! Ha fatto tornare una delle torri funzionante! Via! Colpita! Ok il drago è forte! Ma i minion che fa arrivare sono veramente deboli! Ai miei colpi! Ok! Quella serie di esplosioni non mi è piaciuta per nulla! Oh mio Dio! Per fortuna ero al centro un centimetro in più e sarei morto! Eccolo ecco! Ogni volta che c'è un Blaze significa che una torre è tornata! Quindi miriamola immediatamente! Colpita! Dai che è fatta se non mi lanciassero palle di fuoco! Sta tornando giù! Un segno di rigenerazione! Anche se la mia armatura è stata veramente formidabile finora! E andiamo! Ultimi colpi! Ultimi colpi! Non mi spingerai via! Non mi spingerai via! Sono! Gli ultimi colpi! E vado a fuoco! Nel mentre che il drago lascia tutto! Vediamo! Mi ha lasciato un uovo! L'uovo si continua a teletrasportare però cade! Credete di utilizzare la forza stesso dell'uovo per romperlo! Dall'avventura in quel labirinto mi è rimasta una torcia! Guardate qui secondo me l'uovo potrebbe rompersi sul peso di se stesso! E la torcia colpendo un punto focale dell'uovo lo ha rotto! E ce l'abbiamo! Ma volevo vedere questo materiale qui! Che cos'è? Ce n'è un bel po'! E' l'end gober ragazzi! Sapete cosa significa? Noi abbiamo l'armatura del nether! Grazie all'end gober potremmo avere l'armatura dell'end! E inoltre si è aperto un altro portale! Quindi sappiamo bene cosa significa questa cosa! L'avventura non è minimamente terminata! Quindi ci sono ancora molte avventure da poter fare! Ma suppongo che adesso mi riposerò e tornerò... Beh non ho una casa! Quindi magari qui un po' in tranquillità continuerò a collezionare materiali! Nulla di che! Sono proprio sfinito!